Per un valore di oltre un milione di euro sono stati sequestrati beni immobili e mobili a Carmine, Monteforte, 55enne di Uggiano, la chiesa. Si tratta di beni che l'uomo avrebbe acquistato con i proventi del traffico di droga nel Salento. Il decreto di confisca eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia riguarda 12 immobili, 4 aziende, un veicolo aziendale e un conto corrente aziendale. Monteforte era già stato arrestato nell'ambito dell'operazione Efrot nel 2014 in quanto avrebbe ricoperto un ruolo apicale all'interno di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Dopo aver ottenuto i domiciliari, l'uomo era invaso per poi essere nuovamente arrestato ottenendo una condanna a 25 anni. Le indagini della DIA erano continuate in merito alla situazione patrimoniale di Monteforte portando prima al sequestro dei beni di sua proprietà nel giugno scorso e oggi alla definitiva confisca.